Ma è una scatola... Oh mio Dio! Ah! Cosa c'è dentro? Oh mio Dio, è... È un ano! Ciao a tutti, rai e benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Gianmarco e preparatevi perché oggi raggiungeremo livelli di dimenzialità epici, cose proprio che voi dopo aver visto questo video vi direte ma questo qua è official stupido e la risposta probabilmente sarà proprio positiva. Oggi infatti dopo un super sondaggio nelle mie instastories del mio favolosissimo Instagram scusate ma se non mi seguite cosa fate nella vostra vita? Chi seguite? Mariano Di Vaglio forse? Chiara Ferragni incinta di Fedez? Forse? Ma che ve frega dovete seguire? Ma è che io faccio cose interessanti ovviamente La mia vita è interessantissima! Comunque se mi volete seguire questo qua è il mio nome di Instagram E appunto sulle instastories vi avevo fatto un sondaggino Praticamente questo sondaggio ha avuto il 79% anzi no, scusatemi, l'89% di risposte sì, fallo. Ma cosa diceva questo sondaggio? Diceva, oh raga volete che spenda 500 euro in roba misteriosa che non si sa cos'è in un pezzo di cartone? E voi avete risposto di sì ma vi spiego, aspettate perché secondo me qualcuno non sta ancora capendo niente. C'è questa moda che si sta proprio diffondendo in maniera immensa su YouTube America comprare scatole che non sai cosa c'è dentro, cioè tu non sai minimamente cosa c'è dentro Su ebay tu prendi questi scatoloni che costano 100, 200, 300, 400, 500 dollari, anche 1000 dollari E tu poi ti metti qua davanti alla telecamera e la apri e scopri cosa c'è dentro Queste qua su ebay si chiamano mystery box, cioè scatole del mistero Tu le compri ma non sai cosa c'è dentro, ci può essere di tutto E ho visto che su ebay Italia giravano degli esempi Da 500, da 300, da 800 E io per fortuna, cioè, ho aspettato un pochino prima di spendere 800 euro in una scatola che magari dentro c'è Che ne so, un paio di scarpe rotte E cosa ho fatto io? Ne ho comprata una da 500 perché non posso essere da meno degli altri ma nemmeno straffare Non si sa mai Devo dire che è pesante ma mi dà anche l'idea Che chi l'abbia impacchettata l'abbia fatto veramente con tanto fastidio perché Se c'era qualcosa di prezioso si è rotto Che è qua, non facciamo vedere L'ultima volta che ho aperto un pacco ho dovuto omettere la censura dopo aver caricato il video perché si vedeva tutto Nome, cognome, indirizzo, lettera, testamento Ma c'è dell'immondizia qua dentro raga, cioè se ho preso una fregatura Ridiamo insieme La cosa che mi fa sospettare un pochino di aver preso una scatola di mattoni È il fatto che l'utente si sa cancellato Molto bene Se c'era qualcosa di prezioso l'ho tagliato Se c'era qualcosa di prezioso l'ho spaccato Mamma mia, mamma mia Oddio, ah ma come... ah, qua, ok Oddio, ok, ok Allora così è come si presenta il pacco Un libro, vabbè, vabbè, vabbè Adesso guardiamo cosa c'è raga Comunque, cioè mi sa che ufficio l'ho preso una sola Perché qua non ci saranno mai 500 euro di valore di roba Comunque, vabbè La prima cosa che ho notato È una busta aperta di maschere del viso Ah, Tony Moli, che tra l'altro non è che mi piacciono tantissimo ste maschere Però vedo che ce ne sono proprio tante Sono delle maschere di viso Queste qua mi sa che da Sephora non costano tipo 5 euro l'una Una ladrata Ma non è che sono proprio favolose Però, vabbè Una, due, nove, dieci Undici maschere Quanto fa 5 per 11? Ah, vabbè, 55 euro di maschere Se, vabbè Comunque, vabbè Oh, dai, fa sempre comodo Al massimo le regalo a qualcuno Ma non sono cattive Che non mi piacciono Poi, secondo me, siano tutte quanti identiche Cioè, praticamente, tiri fuori e c'è il foglio Però, vabbè, andiamo avanti Ma è una scatola Oh, mio Dio Ah, cosa c'è dentro? Oddio, raga No, vabbè Allora, questa qua è una tipica borsa Apple Se dentro c'è un mattone Rido e piango Oh, mio Dio Eh, a parte che è aperta la scatola Che mi fa spaventare Però questo qua è un iPhone 7 256 GB Grigio È quello piccolo Cioè, io ho l'iPhone 7 Plus Che, quindi, ci starò qua Ma ne farei proprio niente Tra l'altro è grigio Che non mi piace Però è un iPhone 7 Cioè, potrei venderlo Ipoteticamente E recuperarci un sacco di dobloni Allora, se dentro c'è un Un mattone Io rido, vi giuro No, è vero Oddio Ma che ciovega Raga, è distrutto No, non ci credo Vi giuro, sto male Ma, ma si accende almeno Oh, mio Dio Vi giuro, mi sto per sentire male Ma, ma hanno rifilato La sola più grande Di sempre, raga Un iPhone 7 È grigio, no? Tra l'altro Non è che lo stesso colore È la scatola Ma che prenda per il Chiul è? O è la stessa colore? Non so che colore sia Cioè, questo qua Non è lo stesso colore Ma poi non è un iPhone 7 Questo Un iPhone 6 Ok Sicuramente questo qua È immondizia Praticamente Cioè, chi che lo vorrebbe? Tra l'altro Accessori presentissimi Non so se si vede Ma non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Come dire, indietro I soldi Fino adesso ci ho guadagnato 55 euro di maschere Che non mi piacciono neanche Però la borsetta Apple Non è ancora vuota E infatti ho visto Airpods Raga Solo Airpods Infatti le avevo viste prima Cioè, non so se si vedono Sono le cuffie Apple E queste qua sono incartate Però io ho come l'impressione Che siano tipo una copia cinese Non lo so Per capire se sono una copia cinese Dovrei collegarle al mio iPhone E vedere Ok, qua dice che costano tipo 179 euro a comprare in negozio E tra l'altro sarebbero un prodotto Che piace a tutti quanti Se costano 179 euro E sono vere Quasi quasi Ci sta anche comunque Perché tanto quello là Si è tolto dai me Cioè, io potrei dire qualsiasi roba Di quel tipo Raga, mi sa che sono vere Allora, queste qua Sono delle cuffiette wireless Completamente E vengono In questa scatola E questa roba Che sembra tipo Il filo interdentale Portatile di Apple Da 200 euro Sarebbero il portacuffiette Solo che non so Come si accende sta roba Come si accende sta roba Oh mio Dio Lampeggia Allora, io ho come il sospetto Che se si collegano al mio iPhone E il mio iPhone Le rileva come prodotti Apple Dovrebbero essere Oh! Raga, sono vere! Oh mio Dio! Cioè, vedete? Le ha rilevate l'iPhone Oh mio Dio Airpods di Gianmarco Zagatto Che figata Se tu togli una cuffia Se tu togli una cuffia Si ferma la musica Ma se la rimetti parte Comunque sta qua la scatola E si chiude così E qua le carichi Da quello che ho capito C'è il cavetto Ok, continuiamo con la nostra Valutazione della scatola Vi giuro sono allucinato C'è un costume da bagno Che schifo Ok, un costume da bagno Ralph Sport Che non ho minima idea Di cosa sia Ralph Sport È uscino Non lo metterei mai Tutta la mia vita Tra l'altro Ho usato Ciao Ma cos'è sta roba? Ma cos'è L'uomo guida lo stile Di Bernard Rozel Ah, mi ha messo anche Un favoloso segnalibro Omaggio Grazie Leggerò mai questa roba No, perché Ah, ma cos'è qua Interessante Del valore di 15 euro Però è usato Quindi è perso Completamente il valore Che parlerebbe Il guru del dress code maschile Dieci anni dopo la pubblicazione Bla 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 Consigli pratici Egegempie fotografici Su cosa indossare ogni giorno Al lavoro Nel tempo libero Ma quasi quasi interessante Solo che avrei potuto trovare Tutte queste informazioni Sul mio instagram Visto che io faccio la moda Su instagram Se non mi seguite Seguitemi Faccio la moda Come siamo venali Dovremmo apprezzare il valore Delle cose Cos'è sta roba? Perché un paio di pantaloni Ehm Allora Sembrano dei pantaloni Che sono stati recuperati Dalla tomba Di un qualche signore Anche abbastanza elegante Però una cosa un po' Agé Una cosa un po' Agé Può andare nel bidon Ma che cavolo è? Questa qua è la presa per il culo Comunque ragazzi Perché mi sto un po' Incazzando Raga mi sto un po' Mi sto un po' Arrabbiando Questa qua immondizia Cioè cos'è sta roba? Cuori di palma Ma palma di che? Ma poi Ma tipo l'olio di palma Ma è tossica sta roba? Ma è legale? Un euro? Cioè quanto costeranno Ma è cuore di palma? Ma poi che cacchio Cioè cos'hanno i cuori Le palme? Hanno anche i reni Ma che cacchio sono? Ma delle persone allora? Non so se si può leggere Nel mio viso Il fatto che sia molto Un disappunto Con questa roba E con tutto Cos'è sta roba? Cos'è? Un cucchiaio? Ma poi esce tutto da qua Un comodo cappellino? Ma hanno fregato Cioè una pallina da tennis Che mi sembra mangiata da un cane Una roba Cioè che roba è questa? Ma cosa serve? Ma cos'è una presa? Ma tipo giapponese Cioè non abbiamo queste prese qua in casa In Italia Ma che roba è? Non lo so No è questa? Ma questa roba posso farla vedere su YouTube Ma che roba è? Oddio È un ano È un ano Raga è un ano Ma che roba è poi? Ma c'è cosa serve questa cosa? Ma non è che è una cosa tipo Zichezzacco Ose ose Che si usa per fare cose ose ose Questa cosa è oscena Cioè E l'ultimo oggetto del mistero è un cavatappi Palesemente usato È anche abbastanza sporco Molto bene Mi sento un pirla È ovvio Ma come potevamo anche sospettare Che non sarebbe andata così Quindi l'unico guadagno effettivo È stata sta roba Allora voglio ringraziare tantissimo di cuore La persona che mi ha praticamente rubato 500 euro Lo ringrazio a tutto il cuore Grazie anche a questo libro La scelta del guardaroba da lavoro Ma chi lavora qua? Ma secondo te sono uno che lavora? Il mystery box Fino alla fine Ci ha regalato veramente tanto trash Allora l'ho collegato al computer E Il risultato è morto completamente Qua l'hanno disintegrato Qua l'hanno preso con violenza E l'hanno scaraventato contro il pavimento E poi me l'hanno spedito a me Ci sono ben 800 grammi di immondizia qua dentro Ma che schifo E qualcuno vi prego mi spieghi cos'è questa roba Perché non ho capito cosa serve Cosa ci fai? E niente ragazzi Se questo video vi è piaciuto Ricordatevi di mettere un pollice in su Lasciatemi scrivendo nei commenti Qual è l'oggetto più demenziale E se vi piace l'idea Che io compri un'altra scatola del mistero Magari un po' più economica di questa Visto che è stata palesemente una presa per il Q Fatemelo sapere nei commenti Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al mio canale Esce un nuovo video ogni martedio alle 15 E uno sabato alle 10.30 E ogni tanto giovedì Però questo qua non lo sa mai nessuno Ma rimasta la scatola del mistero Io vi mando Un bacione sgrande grande E al mio prossimo video Ciao Ciao